Opus con informativi in diverse lingue, guide e percorsi di formazione per i lavoratori impiegati nel settore dell'agricoltura e in quello dell'edilizia, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno degli infortuni sul posto di lavoro. Presentato a Bari l'accordo di collaborazione tra l'INAIL e il patronato Inca della CGL, nato da un avviso pubblico promosso dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a cui la CGL ha preso parte. I dati relativi al 2018 fotografano una situazione allarmante, in agricoltura sono state 74 le denunce di infortuni mortali in Puglia, su un totale di poco meno di 3.000, stesso dato anche nel settore di ILE su un totale di oltre 31.000 infortuni. I dati gestionali degli infortuni rispetto almeno per i primi nove mesi dell'anno 2019 sono sostanzialmente simili a quelli dell'anno 2018, però sono sempre dati che stanno preoccupanti, parliamo di oltre 22.600 infortuni, quindi sono dati che comunque impongono una maggiore attenzione da parte di tutti quanti noi e soprattutto la collaborazione con gli enti e con le associazioni datoriali e sindacali per migliorare le condizioni di sicurezza in azienda. Penso che sia uno dei fattori essenziali questo. Abbiamo un indice di frequenza in edilizia piuttosto elevato, sarebbe la quantità di infortuni, mentre in agricoltura abbiamo un indice di gravità più elevato, meno infortuni ma più elevato. Sono due settori fortemente interessati da fenomeni anche di sfruttamento, non soltanto degli immigrati ovviamente, il settore dell'agricoltura e i fenomeni di caporalato che non si possono riassumere soltanto in quel settore, penso anche al tema delle edilizie, anche a quanti in quel settore vivono le stesse dinamiche dei tanti lavoratori sfruttati nei campi della Puglia e non soltanto della Puglia, purtroppo sono fenomeni che si espandono anche in tutto il paese. Quindi insieme alle istituzioni proviamo a dare il nostro contributo, con le nostre conoscenze, le nostre competenze, la nostra capacità di stare vicino ai lavoratori e anche mettendo a disposizione il rapporto fiduciario che i lavoratori hanno nei confronti del sindacato che spesso non è lo stesso che hanno nei confronti delle istituzioni. Quindi proviamo insieme a dare risposte concrete ai lavoratori.